Meno code e più efficienza. Procede suffragata da buoni numeri la promessa fatta sotto capodanno dall'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini di potenziare la macchina delle vaccinazioni regionali in un mese di gennaio ad altissime somministrazioni. Detto fatto, l'11 gennaio appena trascorso ha contrassegnato il giorno con più vaccini inoculati nelle Marche, 19.012, mai così tanti in 24 ore con le terze dosi che avanzano oltre le 15.000 unità giornaliere e il dato non indifferente di 1.700 prime dosi somministrate ieri. Si sveltisce la procedura dei vaccini quanto quella della diagnosi della positività al Covid-19. Da oggi nelle Marche è infatti possibile diagnosticare la positività e uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido negativo senza bisogno di conferma con il molecolare. Merito delle nuove disposizioni del Dipartimento Salute recepite dalla Regione. Dunque, per avere la conferma di positività al Covid-19 è ora validato anche il semplice test rapido effettuato in farmacia, dal medico di medicina generale, dal pediatra o in strutture sanitarie accreditate. Allo stesso modo, uscire dall'isolamento con un test antigenico che accrediti la guarigione dal Covid-19 dovrebbe snellire la procedura dei punti drive tamponi costantemente congestionati di auto in fila. Tamponi rapidi ora validi anche per la fine quarantena dopo un contatto diretto con Positivo. Meno file disagi, più rapidità ma pagamento. I tamponi rapidi costano 15 euro, mentre un tampone molecolare effettuato privatamente viene pagato 70 euro.